Buonasera, buonasera da Onda Tg in primo piano subito la notizia del giorno. Addio per sempre alla sosta sul ponte Capograssi a Sulmona è chiara ora la scelta politica degli amministratori di Palazzo San Francesco, incarico e rimozione delle strisce blu nel nuovo anno, ma sentiamo tutto nel nostro servizio. La verifica strutturale dovrebbe partire nei primi mesi del 2019 dopo l'incarico da 10.000 euro che il comune di Sulmona conferirà nelle prossime settimane all'Università dell'Aquila, ma la scelta politica degli amministratori di Palazzo San Francesco è chiara sul ponte Capograssi non si parcheggerà più. Gli automobilisti indisciplinati sono sempre in azione, tant'è che la sosta selvaggia non si ferma proprio lungo l'infrastruttura progettata da Riccardo Morandi, lo stesso ingegnere che ideò il ponte crollato a Genova. A prescindere dall'essere della verifica, lì non si parcheggerà più, tuona il vice sindaco assessore comunale ai lavori pubblici Nicola Angelucci per sgomberare il campo da ogni dubbio. Ma dopo annunci e continui rinvii, ora il comune accelera sul ponte Capograssi. Nei primi giorni del nuovo anno sarà conferito l'incarico all'Univac per la verifica strutturale, oltre all'avviso pubblico per il rifacimento della segnaletica orizzontale, che servirà a eliminare quella striscia blu che trae in inganno gli automobilisti. È un problema che risolveremo noi per evitare di ricare problemi ai cittadini, come pure cercheremo di mettere mano al parcometro, aggiunge Angelucci. Per chi parcheggia sul ponte, oltre il danno, la beffa. Si rischia infatti di pagare la sosta e di ricevere la sanzione amministrativa, come è accaduto già da alcune persone, mentre le più furbe, con tanto di virgoletto ovviamente, parcheggiano dopo le ore 20, quando il servizio di polizia locale cessa. Per l'altro ponte di Morandi si vogliono quindi accertare le condizioni attuali dell'opera, attraverso una serie di verifiche di vulnerabilità strutturale, perché si sa che prevenire è meglio che curare. Uno studio di vulnerabilità sismica fu effettuato nell'ottobre 2016, quando il ponte venne chiuso al traffico veicolare a seguito del terremoto di Norcia. Ora si attende l'incarico annunciato già per fine agosto, fermo restando che la sosta non sarà più consentita. Chi parcheggia, anche con il parcometro che fa sorgere il dubbio, e contando le strisce blu, incorre comunque in una sanzione, perché prevale la segnaletica verticale, posta all'inizio dell'infrastruttura vicino l'edicola. E ora le autostrade 24 e 25, perché forse si apre uno spiraglio per il blocco dell'aumento dei pedaggi, ma il Ministero e Strada dei Parchi devono ancora trovare la quadra. Facciamo il punto nel nostro servizio. Si apre uno spiraglio per bloccare l'aumento di circa il 19% dei pedaggi dell'autostrada e l'aziale di Abruzzesi a 24 e 25. Il riferimento è quale ieri, in una lunga riunione tra la concessionaria Strada dei Parchi S.P.A., Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, c'è stato un accordo. Il rincaro costituito dal 12,8% è entrato in vigore il 1 gennaio scorso, bloccato lo scorso mese di ottobre fino a fine anno, e del 5,8% che scaterebbe il 1 gennaio prossimo potrebbe essere congelato per tre mesi. Secondo quanto si è appreso, il Ministero avrebbe comunicato all'ANAS, come stabilito ieri, la disponibilità alla restituzione a Strada dei Parchi dei rimborsi relativi a sconti effettuati negli ultimi tre anni, vicenda sulla quale c'è una controversia legale tra le parti. Alla luce di ciò, la concessionaria acconsentirebbe a lasciare pedaggio a livello del 1 gennaio 2017 per i primi tre mesi nel 2019. In tal senso ora l'ANAS può deliberare il provvedimento nel Consiglio di Amministrazione. Nei primi tre mesi dell'anno, sempre stando a quanto si è appreso, si dovrebbe approvare il piano economico-finanziario e si dovrebbero sbloccare 192 milioni di euro inseriti nel decreto Genova per la messa in sicurezza dei viadotti delle due autostrade, vicenda sulla quale ci sono stati scontri tra il Ministero, che ritiene la situazione allarmante, e Strada dei Parchi, che li ritiene sicuri. Con questa intesa si arriverebbe ad equilibrare le tariffe anche per gli anni prossimi. In particolare nel PEF, in attesa di approvazione di cinque anni, è inserito il megaprogetto di messa in sicurezza sismica di circa 3,1 miliardi di euro, di cui due a carico dello Stato e la restante parte a carico del privato, un'opera tra l'altro prevista nella legge ristabilitare 2012, approvate in seguito al terremoto dell'Aquila, nell'ambito della quale due sono considerate strategiche in caso di calamità naturali. Nei giorni scorsi i sindaci abruzzesi e laziali, molti dei quali della Valle Pelini e del centro Abruzzo, avevano pubblicato un necrologio a modo di protesta. Gli amministratori si sono dati appuntamento per le ore 9 del 31 dicembre davanti il casello autostradale dell'Aquila, ma qualcosa potrebbe cambiare se si troverà la soluzione dell'ultimo minuto. E ora la sanità con il grido dell'allarme per il reparto di urologia dell'ospedale di Sulmona. Al collasso solo due unità in servizio Will pronto ad adire le vie legali. Solo due unità in forza, reparto di urologia dell'ospedale di Sulmona. Quanto basta la Will FPL per lanciare l'allarme e tornare a bomba sulle sorti del reparto? Il sindacato è pronto ad adire le vie legali. Una situazione annosa che continua a incancrenirsi nel corso del tempo, a discapito degli utenti e di quei pochi lavoratori in servizio. Tale situazione sta determinando un aumento dei carichi di lavoro del personale medico in servizio, costretto a espletare un numero di pronte e disponibilità superiori a quanto previsto dalle normative vigenti in tema di giusto riposo, fanno notare Marcello Ferretti e Mauro Gabrielli. La dotazione organica presente non può garantire un'attività chirurgica. Visite mediche e consulenze sulle 24 ore senza determinare ripercussioni sull'aspetto psicofisico dei professionisti residui. Ricordiamo che tale servizio fornisce un'importante mobilità attiva verso l'ASL. Pertanto è opportuno intervenire in maniera strutturale attraverso il potenziamento della dotazione organica. Evidenziamo anche la difficile situazione del personale del comparto, costretto a lavorare in condizioni critiche vista la presenza di pazienti multidisciplinari. Ferretti e Gabrielli riferiscono poi di aver interessato l'amministrazione e auspichiamo un'immediata risoluzione del problema al fine di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio. Il permanere di questa grave situazione ci vedrà costretti a radire le vie legali nelle opportune sedi competenti, chiosano i due sindacalisti. Ora la cronaca, palloncini, applausi per Simone Lotito, il giovane che illuminava la città morto a soli 22 anni. Un addio in musica con i suoi amici. Noi vediamo tutto nel nostro servizio. I lunghi applausi quando il ferretro usciro dalla chiesa, il volo di palloncini bianchi, le musiche preferite che facevano da sottofondo per lenire il dolore, la folla, la commozione di tanti amici. Si è chiuso così questa mattina il funerale di Simone Lotito, il giovane di 22 anni che è morto nei giorni scorsi, stroncato da un brutto male. La città di Sulmona, distrutta dal dolore, si è stretta in un unico e forte abbraccio con i suoi familiari, la mamma Luana, il padre Franco, i suoi tre fratelli. È stato il giorno della commozione e del ricordo con quelle canzoni che Simone amava e che tutti hanno cantato in suo onore per salutarlo per l'ultima volta, pur sopportando l'estremo dolore, la rabbia per il terribile scherzo del destino. Perché se c'è una cosa che Simone ha lasciato è la sua voglia di vivere e di cantare le bellezze della vita. La chiesa di San Giovanni da Capestrano era stracolma di persone, le stesse che hanno incrociato in più di un'occasione Simone a un concerto piuttosto che una manifestazione in teatro. Lui era tecnico della fotografia nei service ed è stato ricordato come colui che illuminava la città, simbolicamente e non solo. Per tre anni ha lottato con la sua malattia, poi il ricovero presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmone. Il suo cuore alla fine non ce l'ha fatta. I familiari hanno chiesto non fiori, ma opere di bene in favore dell'estituto reggine Elena di Roma per continuare a sostenere la ricerca e per fare vivere la forza e la tenacia di Simone che ha combattuto a lungo la sua malattia. Tutte i doti che sono state ricordate anche in chiesa nel corso del rito funebre ufficiato da Don Fabio D'Alfonso. Poi la commozione, la musica di sottofondo. Prima c'è tempo. La colonna sonora di ogni esperienza umana. Poi ti fa stare bene di Caparezza, una delle canzoni preferite da Simone. Un addio in musica perché c'è chi continua a credere che quel sorriso che riusciva a contagiare tutti continuerà a splendere per l'eternità. Ciao Simone. Metti un capodanno al canile. Parte la guerra ai botti di Capodanno con le ronde. I controlli fai da te. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Metti una notte al canile. Attenderà lo scoccare della mezzanotte a Noce Mattei Gabriella Tunno, presidente dell'associazione Code Felici, responsabile del canile comunale. In prima linea contro i botti di Capodanno ha accolto con soddisfazione l'ordinanza emessa dal sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, che vieta lo scoppio dei pedardi, fino alle ore 24 del 2 gennaio, nei pressi delle zone sensibili della città. La Tunno, amica dei cani, brinderà al 2019 con i suoi cuccioli, ma annuncia il pugno duro contro chi non lo sta nel provvedimento intenderà trasgredire. No che sia lei chiamata a controllare, perché esistono gli organi preposti, le forze dell'ordine, per combinare l'eventuale sanzione amministrativa, che va dai 25 ai 500 euro. Ma la Tunno resterà a presidiare il canile, come pure annuncia di organizzarsi autonomamente per le ronde notturne. Amici di Code Felici, la notte del San Silvestro, appena chiudo il canile, mangio qualcosa a casa ed esco per controllare i furbetti che sparano i botti. Ha fatto sapere la Tunno che sulla sua pagina Facebook ha annunciato i controlli fai-da-te che scatteranno all'interno del canile municipale. L'ordinanza del sindaco dispone il divieto di esplodere pedardi, botti e fuochi d'artificio nel territorio di Sulmona, in particolare nei luoghi di aggregazione o affollati, nelle aree a rischio propagazione degli incendi, nei pressi dell'ospedale, delle scuole, dei luoghi di culto, nelle vicinanze di monumenti, edifici o aria a Valencia storica, archeologica, architettonica, naturalistico, ambientale, nonché in via vicenne, contrada a Noce Mattei, in linea con la nota diramata dalla Prefettura dell'Aquila. Il provvedimento entrato in vigore alla mezzanotte di oggi sarà valido fino alle ore 24 del 2 gennaio. Il sindaco invita i cittadini, nelle altre zone del territorio comunale, ad adottare condotte prudenti e responsabili nell'uso dei fuochi pirotecnici, osservando condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni, la pena prevista sono sanzioni amministrative che vanno dai 25 ai 500 euro. Inoltre, tutte le disposizioni, eventualmente in contrasto e incompatibili con l'ordinanza, saranno revocate. A proposito di Capodanno, alberghi pronti a bissare il successo. Una chiusura col botto per il turismo peligno. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Un Capodanno all'insegna del turismo e della buona tavola. Secondo Convesercenti, saranno circa 6,6 milioni gli italiani che passeranno la notte di San Silvestro in viaggio. E che non sia un Capodanno con i tuoi, lo confermano anche i dati diffusi dal presidente dell'Associazione Abbergatori Domenico Santa Croce. Il ponte dell'ultimo dell'anno, il ritorno del grande turismo, avrà degli effetti positivi anche su Sulmona. Gli alberghi sono quasi tutti pieni e se saranno confermate le previsioni della vigilia, si stiva almeno l'80% delle presenze, anche se l'obiettivo finale resta sold out. D'altronde, gli abbergatori tenderanno di bissare il successo del Natale, che eccezionalmente ha riversato in città un considerevole flusso di turisti. Il 2018 si guida quindi con il botto sul fronte del turismo. Solo con la Transiberiana e i mercatini di Natale sono arrivate nel territorio Peligno circa 9 mila persone. Per molti sulmonesi il Capodanno sarà l'occasione per concedersi qualche gita fuori porta. Tra le mete più gettonate, almeno stando la nostra raccolta di opinioni, spicca anche Matera. Qualcuno però difende la sulmonesità anche l'ultimo dell'anno. Se veniamo sulmona, da tradizione, non spostatemi, non andate fuori, rimanete nella nostra città. Il messaggio di Claudio lo sposo in pieno, sulmona al 100%. Anche sulmona, anche l'ultimo dell'anno. Allora, Capodanno quest'anno si va a Matera e dopo si va a festeggiare a Predappio. Gli italiani in viaggio invece saranno circa 600 mila in più dello scorso anno, visto che l'anno nuovo inizia martedì e saranno molti gli uffici che non riprenderanno l'attività prima del 2 gennaio. Un ponte che allunga la durata delle vacanze, quattro giorni in media, e che fa lievitare la spesa media per persona. Quest'anno di 859 euro, circa 100 euro in più rispetto all'anno scorso e non si rinuncia nemmeno al cenone. Per salutare a tavola l'anno nuovo, gli italiani spenderanno 111 euro a famiglia per una spesa complessiva che sfiora i 3 miliardi di euro e che sia una buona fine e un buon principio, come si usa dire. L'ora è servizio di igiene urbana, Prato-Lapelini, riduzione della Tari e incremento delle pulizie, tutte le novità del nuovo piano nel nostro servizio. Apertura dell'ecosportello per il mese di febbraio, riduzione della tariffa Tari, predisposizione di una cassetta ecologica aperta 24 ore su 24 per il conferimento dei rifiuti, la previsione di una serie di raccolte a domicilio di diverse tipologie di rifiuti su richiesta dei cittadini, sono queste le principali novità del servizio di igiene urbana per il comune di Prato-Lapelini. Il nuovo piano è stato presentato questa mattina dal sindaco Antonella Di Nino e dal consigliere delegato all'ambiente Antoni Leone. Per il 2019 sono quindi previste una serie di novità a partire dall'incremento a tre volte a settimana del ritiro dell'organico nel periodo estivo, alle pulizie sulle strade del paese che saranno sensibilmente incrementate. Il centro sarà pulito tutti i giorni, mentre una doppia pulizia settimanale riguarderà le vie adiacenti. Tutte le altre strade saranno interessate da una pulizia settimanale. Interventi analoghi con precise tempistiche saranno previsti per la frazione di bagnaturo e nella zona vicina all'uscita del casello autostradale. Predisposti anche nuovi ritiri di cartone da tre a quattro volte a settimana, plastiche e metalli da due a tre volte per le utenze non domestiche, come ha illustrato l'assessore a commercio Paolo Di Bacco. Poi misure specifiche per contrastare la sporcizia causata dalla presenza massiccia dei piccioni, evidenziata dall'assessore a verde Fabiana Donadei, e appositi ritiri a domicilio fino a tre volte a settimana per pannolini e pannoloni, come spiegato da Marianna Polombizio, assessore alle politiche sociali. Nei prossimi giorni partirà una dettagliata campagna informativa che riguarderà anche le scuole. Visti gli esiti anche della giudicazione del bando ad una riduzione della tariffa, una tariffa che è già tra le medio-basse del circondario, noi siamo a circa 122 euro ad abitante, quando invece in altre realtà si aggira intorno ai 140-150 per arrivare addirittura a 180, pur non applicando la tariffa puntuale. Noi non siamo però soddisfatti e quindi, avendo registrato una giudicazione ad un importo inferiore, stiamo lavorando con gli uffici del bilancio affinché si possa ritoccare a ribasso anche questa tariffa. Siamo l'unico comune poi del resto che continuerà a fornire all'interno della stessa tariffa le buste. Negli altri comuni le buste si pagano, a Prato la Peligna continueranno a non pagarsi. Il sindaco Andorelladino nel suo intervento ha ringraziato anche gli uffici e il delegato all'ambiente Antony Leone per il lavoro svolto sulla predisposizione del bando aggiudicato dalla Diodoro Ecologia. Tra le varie premialità per le quali la ditta si è aggiudicata il bando, tutta una serie di servizi che riguardano la pulizia molto più efficace, che toccherà anche lo stesso verde pubblico. Ad esempio sono previsti passaggi per circa 20 chilometri, il che non è male soprattutto perché viene considerato all'interno dell'unico importo di aggiudicazione e quindi libererà risorse che invece il comune negli anni passati ha dovuto spendere per far fronte a queste ulteriori esigenze. Fine dell'anno intanto all'insegna dell'arte e della cultura perché tre pittori Peligni espongono nella cappella del Corpo di Cristo del complesso monumentale dell'Annunziata. Sul Mona ce ne parla nel servizio Gaetano Trigilio. Tre pittori del territorio Peligni espongono nella cappella del Corpo di Cristo a Sul Mona. Gli artisti sono Luciana Masci, Francesco Svizzero ed Achille Coratella. Luciana Masci dipinge da solo due anni ma le sue tele mostrano un tratto deciso e la capacità di esprimere il volto della persona. Belli e delicati inuti, interessante ed espressivo il ritratto di un anziano che lei ci ha detto essere suo padre. Io sono onorata di essere qui perché dipingo soltanto da due anni e quindi sono onorata perché questa mia prima esperienza è con pittori di un certo livello come Francesco Svizzero e Achille Coratella. Un ringraziamento particolare va a Elio Lucente che in realtà mi ha proposto a lui e al suo posto e quindi gliene sarò sempre grata. È il mio primo passo nella visibilità. Francesco Svizzero ama mettere su tela colori vivaci, forti, quasi aggressivi. Di lui scrive il critico d'arte Paolo Ardizzola. Francesco Svizzero sublima le successioni del paesaggio prezzano dell'ideale trittico metropoli, metamorfosi e montagna madre. Ci troviamo certo di fronte ad una pittura informale ma che lascia agevole interpretazioni e ci guarda le sue tele. Si parte sempre dal figurativo anche a livello scolastico e man mano che uno cresce a un certo punto trova sempre qualcosa che va al di là del formale, del figurativo per esprimere la parte interiore nostra insomma che dopo un punto dà dei significati profondi ai quadri insomma altrimenti il dipinto deve avere sempre un certo punto un senso, un significato profondo. Achille Curatella esprime una pittura che va dal formale all'informale ma non priva di suggestioni e di interesse. Io facevo i figurativi, schizzi a matita da ragazzo e poi mano a mano con le esperienze, con le mostre fatte vai a formarti a quello che ti piace di più. Presente all'inaugurazione il professore Emiliano Splendore, noto organizzatore di mostre tra cui la mostra dei pittori Peligni a cui partecipano mediamente una quarantina di pittori. È una cosa certamente di interesse, anche loro fanno parte della rappresentanza dei pittori Peligni, alcune cose sono veramente belline e in particolare quello del mio amico Francesco Svizzero perché già lo seguo da parecchio e degno di partecipare a questo rallegramento un po' del Natale, un po' delle sante feste e un po' perché loro hanno voluto omaggiare la nostra terra con questa rappresentazione. Conto alla rovescia per il personaggio dell'anno, il gioco sondaggio di Onda TG batte il record. Sentiamo nel nostro servizio. Ci siamo, ultime 36 ore per eleggere il personaggio dell'anno con Onda TG. Il gioco sondaggio batte il record delle 1075 visite registrate lo scorso anno. Continua la scalata per il titolo simbolico dell'ex docente e dottore commercialista Franco D'Amico che nelle ultime settimane ha guadagnato una serie di consensi. D'Amico è il portavoce del comitato di Nino Morandi, l'istituto che attende l'occai per il trasloco rientra sul Mona. Nesta testa per il secondo posto passa in vantaggio il presidente dell'Umpi L'Aquila, Raffaele Di Santi, seguito a poca distanza dal consigliere comunale e provinciale Moro Tirabbassi. Ma nell'elenco dei personaggi più votati spiccano anche il giovane poeta Francesco Amori e il consigliere nazionale Avis, Domenico Leone, oltre al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che si sta avvicinando nella parte alta della classifica. Il nome dell'eletto sarà reso noto nell'ultima edizione dell'anno di Onda TG che andrà in onda alle 20.15 di lunedì 31 dicembre. Il 7 gennaio il personaggio dell'anno, assieme agli altri due personaggi che compongono il podio, saranno ospili della rubrica Vivere la vita. È ancora possibile esprimere la propria preferenza sul sito internet www.ondatv.tv nella sezione dedicata al personaggio dell'anno fino alle 23.59 di domani 30 dicembre. In attesa del concerto di Capodanno, la camerata musicale sul Monese ha fatto il pieno con il balletto Lo Schiaccianoci, Chetano Trigilio. Teatro stracolmo per il balletto Lo Schiaccianoci. Un grande successo di pubblico. Molti aspiranti spettatori sono rimasti fuori del teatro. Purtroppo, alcuni episodi anche recenti, le disposizioni sugli spettacoli sono diventate molto severe. Non si possono emettere biglietti in numero superiore a posti offerti. Chi ha interesse a vedere uno spettacolo è bene che si prenoti per tempo. Questo fa capire il grande interesse che la camerata sta suscitando in città e di regione sulla propria stagione teatrale. Dunque, ancora un grande successo. Lo spettacolo ha visto sul palcoscenico del Caniglia il Moscow Classical Ballet. Il balletto si racchiude in due atti, con le musiche di Peter Tchaikovsky. Tchaikovsky è stato un compositore russo del tardo romanticismo, le cui composizioni sono tra le più note del repertorio classico mondiale. La coreografia è di Marius Pepità. Il testo è basato sulla fiabba di Hoffman. Si tratta di una favola, una favola bella, ma che poi si rebella solamente un sogno. La prima rappresentazione è biluogo il 18 dicembre 1892 presso il Marinsky di San Pietroburgo. Fu diretta dal compositore italiano Riccardo Drigo e coreografata dal ballerino russo Lev Ibanok. Questa esecuzione, tuttavia, non riscosse molto successo. Negli anni ci sono molte versioni del balletto fino a giungere al cosiddetto schiaccianoci moderno. Ma quegli anni il successo è stato sempre crescente. Gravi gli artisti, coreografia affascinante, il pubblico sul Monese non ha fatto mancare gli applausi. Solo una persona ci ha fatto notare che l'assenza di un'orchestra toglie il fascino all'opera del grande musicista russo. Ma si capisce che il problema è nelle risorse che ci hanno a disposizione. E ora l'atteso momento della buona notizia del giorno. La musica oltre i confini e le differenze, mediazione interreligiosa e interculturale, questo lo straordinario concerto con musica cattolica, ebraica, ortodossa, in programma il 30 dicembre alle 17 a Spazio Pingue, in via Lamaccio a Sulmona. La musica, spiega Sondria D'Amato, che ha ideato e organizzato completamente l'iniziativa, protagonista della serata è linguaggio universale di unione, è consonanza di diversità religiosa ed espressione veicolo di differenti culture, nonché potente mezzo di comunicazione universale e di sentimenti. È immensa l'importanza della conoscenza delle reciproche tradizioni, il costante confronto interculturale, come onorevole finalità e rispetto dell'uomo, alla base di ogni convivenza pacifica. All'evento parteciperà anche Luigi De Salvia, che resta l'ospite d'eccezione, il segretario regionale della sezione italiana di Religion for Peace, l'associazione che accanto alle organizzazioni internazionali, insieme a molti altri movimenti, opera per promuovere una convivenza pacifica e giusta, fondata su rispetto reciproco, su una migliore ripartizione delle risorse della terra, mediante un impegno di educazione alla pace e al dialogo, la diffusione di ideali di fraternità e riconciliazione, la promozione del disarmo e della collaborazione fra i popoli. La sua specificità è quella di perseguire tali fini, utilizzando i mezzi spirituali propri delle religioni. L'ingresso al concerto del 30 dicembre è gratuito. Durante la serata saranno raccolti fondi per sostenere i progetti dedicati alla musica. Il concerto ha debutato già a pacentro lo scorso mese di agosto ed ora viene riproposto a Sulmona. Si prevede un afflusso almeno di 400 persone, fra cori e familiari a seguito. La serata sarà presente dalla giornalista Chiara Buccini. Passione Rugby a Sulmona anche sotto Natale con il Chi C'è C'è che si è svolto questa mattina per noi c'era Domenico Berlingeri. Si è rinnovato a Sulmona il Chi C'è C'è, tradizionale appuntamento che caratterizza le festività per gli amanti del rugby. Giocatori della prima squadra, baby-regbisti ed appassionati della palla ovale si sono ritrovati al campo in località incoronata per l'edizione del Natale 2018. Presenti diversi ragazzi a dimostrazione della crescita del movimento giovanile. Grazie alle molteplici attività messe in atto dal Sulmona Rugby 1967, in tanti negli ultimi anni si sono avvicinati a questo sport che è in grado di suscitare emozioni e soddisfazioni. Provare per credere è lo spirito che anima queste iniziative per diffondere i principi del rugby, spirito di squadra, rispetto delle regole, solidarietà, lavoro e impegno. Sono questi solo alcuni elementi che lo contraddistinguono come eccellenza sportiva dal grande valore formativo per i giovani. Il ritrovo per tutti è stato alle 11, per poi formare due squadre che in campo hanno fatto prevalere tanto agonismo e divertimento. Il Chi ce ce ha concluso ufficialmente il 2018 del Sulmona Rugby che aprirà il nuovo anno con un importante concentramento giovanile domenica 13 gennaio con circa 200 bambini provenienti da tutto l'Abruzzo. Il 19 gennaio è in programma la quinta edizione del Memorial Salvatore Marco per ricordare i due giovani reggbisti Salvatore Di Padova e Marco Liberatore morti nell'incidente stradale sull'altopiano delle Cinque Miglia avvenuto il 18 gennaio 2014. La manifestazione prevede lo svolgimento di un torneo riservato a squadre olda. Dal mese di febbraio le attenzioni saranno puntate sulla seconda fase del campionato di Serie C2 che vedrà protagonista la prima squadra del Sulmona Rugby affidata ora alla conduzione tecnica di Enzo Guglielmo. Il Chi ce c'è invece, come vuole la tradizione, tornerà nella settimana di Pasqua perché a Sulmona neanche durante le feste si smette di giocare a rugby. Lo dico al Tg, domande, segnalazioni e curiosità sulle notizie del giorno e non solo che peschiamo sulla pagina Facebook di Onda TV con la diretta live di Onda Dg per non perdere filo diretto con i lettori e telespettatori. Quindi vediamo quali sono stati i principali commenti che hanno segnato questa edizione. Se amiamo così tanto gli animali non usiamo i botti a Capodanno loro ci ringrazieranno, ci scrivono Ciao Simone, un altro angelo volato troppo presto in Paradiso vedete una notizia ovviamente che ha scosso l'intera città come al solito gli altri paesi come Pratola molto più organizzatori sul Mona si parla ovviamente del servizio di igiene urbana e poi Capodanno nel nostro territorio dicono sarà bellissimo come sempre. Vediamo se ci sono ancora altri cormenti quindi continuate a scriverci sui social noi come ogni sabato chiudiamo con applausi e fischi il re-wind della settimana per vedere questa volta chi chiude l'anno con gli applausi e con i fischi vi ricordo dopo di noi Abruzzo Notizie è il punto Onda Dg torna lunedì grazie per essere rimasti con noi a tutti buon fine settimana e buona domenica Settimana più corta per via delle festività natalizie ma con la nostra attesissima rubrica del sabato arriva il re-wind per vedere chi chiude l'anno con i fischi o con gli applausi applausi per Stefano Passoforte lo chef di Sulmona che ha offerto il cenone della vigilia ai minori ospili del centro Casa Silvia il personale della struttura ha espresso soddisfazione ma in tanti sui social hanno rimarcato l'alta valenza del gesto spontaneo che sotto Natale assume un significato tutto particolare applausi per Valentina Latini di Euforie e l'associazione Le Rotaie che hanno organizzato i mercatini di Natale sul treno storico un successo che è andato al di là di ogni aspettativa e ha risollevato le sorti del turismo peligno con imprenditori e abbergatori che sono tornati a sorridere applausi per il Pratolano che ha trovato una busta piena di soldi per le vie del paese riconsegnandola alla polizia locale era la pensione di un'anziana del posto che non si dava pace per averla persa un piccolo gesto che dimostra come nonostante tutto esistono ancora persone civili fischi per l'astra vezzano su Muna l'Aquila che non ha provveduto al potenziamento del parto di urologia dell'ospedale di Sulmona due unità in servizio sono troppo poche e la UIL ha dichiarato battaglia fischi per gli automobilisti indisciplinati che parcheggiano la propria auto sul ponte Capograssi nonostante il diveto di sosta è vero che le Sicebru traggono un inganno ma in questo caso è pur vero che il senso civico è venuto meno fischi per strada dei parchi e per il Ministero dei Trasporti per l'annunciato rincaro dei pedaggi adostradali anno nuovo e rincari nuovi forse uno speraglio si apre ma al momento quando mancano una manciara di ore al countdown non si è ancora trovata la quadra non si è ancora trovata la quadra non si è ancora trovata la squadra accorgete